In cerca di lavoro, torna per la seconda volta sul cantiere di piazza Regione Campania di Eboli e sale sull'impalcatura. Attimi di apprezzione questa mattina a Eboli, dove un 56 anni disoccupato del posto ha tenuto con il fiato sospeso operai, esponenti dell'amministrazione comunale e carabinieri. L'uomo, secondo la ricostruzione dei militari, a fine maggio si era regato dal titolare del cantiere allestito in piazza Regione Campania, chiedendo di essere assunto. Tuttavia, con il personale a compreto, il responsabile dei lavori l'ha inviato a ritornare. Ma oggi il 56enne, con un passato da sindacalista, ha deciso di protestare salendo a tre metri d'altezza. Immediato l'intervento dei carabinieri diretti dal comandante Luca Geminale, che con la mediazione del sindaco Massimo Carillo hanno convinto l'uomo a tornare sui suoi passi.